Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare di Dogelon Mars Elon, ma prima di tutto ciò vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Allora, la notizia di oggi praticamente sono due bombe, perché appena succederà tutto questo Elon esploderà. Allora, prima voglio farvi notare la capitalizzazione di mercato, qui è di 820 milioni. Andiamo a vedere, a fare ancora la differenza con Shiba Inu, perché secondo me sarà il nuovo Shiba Inu al 100%. Shiba ha 16 miliardi di capitalizzazione di mercato, quindi vi lascio immaginare appena Elon raggiungerà la capitalizzazione di mercato di Shiba io penso che succederà veramente il devasto. Basta pensare che Shiba, ora siamo arrivati nel 2022, è praticamente a solamente 4 zeri davanti. Guardate qui quanti zeri ha davanti Dogelon che può cacciare ancora, perché questi qua secondo me certi li potrà cacciare tranquillamente soprattutto quando ci sarà un metodo di acquisto più sicuro del solito. Sicuro non nel senso che su Pancake Swap non è sicuro, però giustamente appena te la trovi listata su Binance è tutta un'altra cosa. Bene sì, qui c'è praticamente il sondaggio sul quale moneta, diciamo, votare il progetto per farla listare su Binance, sarà lasciando questa che è diciamo un sondaggio ma gira voce già che la vorrebbe listare nel 2022, gira anche la voce che Binance se non sbaglio era in Arabia dove praticamente voleva firmare per alcune cripto con precisione a Dubai. Vabbè vado e voto Dogelon, ma perché Dogelon secondo me sarà listato su Binance. Ma le notizie non finiscono qui. Capace che avete letto di sotto quello che c'era scritto, spero di no, ma ve lo dirò subito. C'è un altro metodo, modalità d'acquisto, chiamatelo come volete, un altro exchange dove io personalmente questo exchange lo uso perché mi trovo meglio per quanto riguarda i grafici dove ti aggiorna il tempo reale dell'andamento, delle criptovalute, più 20%, meno 8% e via dicendo. Coinbase, come acquistare Dogelon Mars? Quindi praticamente Coinbase listerà Dogelon Mars. Vi lascio immaginare quello che succederà, praticamente è una fusione tra due notizie devastanti. Questa, diciamo, foto è del primo gennaio alle 7 e 13 di pomeriggio. Io sto registrando il giorno seguente, quindi praticamente quando vedete questo video è dell'altro ieri. Ragazzi, con queste due news ci sarà il devasto assoluto. Perché? Non per qualcosa, ma già Dogelon Mars, vi lascio immaginare, guardate, è praticamente listato su CRO, Qcoin, Gateio, Uniswap, Gemini e tutto, diciamo, il resto. Sono esclusivamente 24 exchange dove è listato, ma faccio vedere Shibaino perché secondo me prenderà le sue stesse orme. Orme, guardate qui, Shiba, praticamente, 100 e passa exchange dove si può acquistare e poi soprattutto appena si potrà acquistare, giustamente ci sarà il devasto. Cioè, è matematico ragazzi. 24 exchange e praticamente la sua capitalizzazione è di 820 milioni. Lasciamo praticamente, a parte il paragone con Shiba Inu, ma Dogelon Mars, fino a tre giorni fa, la classifica era, se non sbaglio, 130esimo gigi. Lo so che questo non interessa, oppure non c'entra più di tanto, ma questo è per farvi capire che la community sta spingendo Dogelon a essere simile a Shiba Inu. Giustamente, bisogna vedere le monete, via dicendo. Però, grazie alla community e grazie a queste news, per carità, ovviamente Dogelon, secondo me, andrà in porto queste due news e aumenterà il proprio prezzo. Bisogna vedere le monete, ripeto, circolanti, perché se non sbaglio, non vorrei dire una capolata, correggetemi se sbaglio giù nei commenti. La metà delle monete, Elon, è bloccata. Se non sbaglio è così. Se sbaglio, non è che posso ricordarmi tutto al 100%, se sbaglio correggetemi nei commenti, perché vi lascio immaginare quello che sarà. L'ultimo giorno è andato in positivo del 3.92%, l'ultima settimana invece, diciamo che è stata, come vi posso dire, è stata più nella media, perché poi qui c'è stato il periodo dove praticamente era andato il mercato in grosso. Il mese, guardate qui, ha fatto questo rialzo. Gli ultimi tre mesi, praticamente, ha raggiunto il massimo storico, che se non sbaglio, non vorrei dire una capolata, tralasciando questa capolata qui, che secondo me, all'inizio questa moneta è stata utilizzata come pump e down. L'unica cosa brutta è stata questa, ma ora puntualmente sta risalendo. Diciamo che, secondo me, con queste news, con la community, che ora praticamente ha capito che la fusione tra, ovviamente, quanto riguarda i shitcoin, Doge, quindi Dogecoin, oppure Shiba praticamente, il meme token, più la fusione con Elon Musk, più Marte, perché giustamente vuole essere il metodo di pagamento su Marte, ma questo, quello che dicono, è un pochettino più strana, cioè non ci credo più di tanto, perché giustamente, per quanto riguarda i meme token, devono crearsi la storia, e quindi, giustamente, facendosi queste tre fusioni, giustamente, è normale che va all'occhio di tutti quanti. Quindi, ragazzi, queste due notizie bomba, ovviamente bisogna vedere Binance, se la listerà o meno, questa qui è praticamente una foto ufficiale di Coinbase, ovviamente, vi lascio immaginare quello che sarà. Più che altro, bisogna vedere anche la capitalizzazione, quella è una cosa che mi piace, che è veramente bassissima, quindi noi, ora, se dovessimo entrare in questo momento su Dogecoin Mars, giustamente, ci sarà un guadagno molto, molto di più, per chi entrerebbe dopo, che giustamente, non è che le persone vanno ad acquistare così tante monete di Dogecoin, ma, sentendo queste notizie, prevenendo il mercato, Dogecoin Mars, parere mio personale, esplode. Poi, giustamente, io non sono un consulente finanziario, quello che dico io non è legge, però, se dovete investire in queste monete, mi raccomando, fatelo con la vostra testa. Il mio parere personale non arriverà mai al centesimo barra dollaro, Dogecoin, questo, possiamo essere sicuri, però, giustamente, queste monete sono ottime per chi volesse raddoppiare il suo budget. Ovviamente, ripeto, è sempre una Sheetcoin, quindi state attenti, ragazzi, ovviamente, se potete e volete, diciamo, scommettere, perché Dogecoin più che altro è una scommessa, potete farlo, ma non aspettatevi che questa moneta, praticamente, ha un progetto serio o qualcos'altro, perché, giustamente, è un meme token, è un meme token, rimane. Ok, ragazzi, per questo video è tutto. Vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina e le notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao e a presto!